Nuove e rigorose disposizioni per la conduzione degli animali di affezione e l'obbligo di rimozione delle loro deiezioni sono state introdotte a Sala Consilina con un'ordinanza firmata dal Sindaco Domenico Cartolano. Il provvedimento, fanno sapere dall'amministrazione comunale, risponde alla crescente necessità di mantenere puliti gli spazi pubblici e garantire il decoro urbano, oltre a tutelare la salute dei cittadini. L'ordinanza è stata dunque emessa in seguito a numerosi episodi di abbandono di deiezioni canine in varie zone della città, incluse aree verdi, marciapiedi e giardini pubblici. Tali comportamenti incivili, si legge ancora nella nota del comune, hanno causato disagio tra la popolazione e rappresentano un potenziale rischio sanitario, specialmente per bambini, anziani e non vedenti. Nel dettaglio le principali disposizioni dell'ordinanza prevedono che i cani siano tenuti al guinzaglio della lunghezza massima di un metro e mezzo in tutte le aree pubbliche. I proprietari sono obbligati a rimuovere immediatamente le deiezioni dei propri animali e dunque devono disporre di sacchetti monouso e contenitori di acqua per la pulizia delle deiezioni liquide. È previsto il deposito delle deiezioni nelle dog toilette presenti sul territorio comunale e infine è disposto il monitoraggio degli animali per cui i proprietari devono evitare che loro animali disturbino o causino danni a persone, cose o altri animali. L'abbandono delle deiezioni canine è un atto di inciviltà che non possiamo tollerare, ha dichiarato il sindaco cartolano. Questa ordinanza non solo mira a mantenere puliti i nostri spazi pubblici ma anche a promuovere un comportamento responsabile tra i proprietari di animali. Chiedo a tutti i cittadini di collaborare attivamente per rendere Sala Consilina un luogo più pulito e vivibile per tutti. Chiunque violi le disposizioni dell'ordinanza sarà soggetto ad una sanzione amministrativa che va da un minimo di 25 ad un massimo di 500 euro. Sono esentati dall'ordinanza i non vedenti accompagnati da canne guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati a raccogliere le deiezioni.